Mi sono sempre domandato se fosse possibile guadagnare criptovalute in maniera completamente gratuita in quanto non ho mai voluto spendere molti soldi per queste monete in quanto le ho sempre viste un po' volatili, mettiamola così Ok, a parte Bitcoin ed Ethereum che sono famosissime e che stanno veramente spopolando tutte le altre si alzano e si abbassano di valore e non sapendo bene come funzionino ho sempre avuto paura di investire su DS Di conseguenza ho veramente messo poco ho messo 40€ e questi 40€ dopo un anno sono diventati 12 e solo adesso a distanza di due anni stanno aumentando di valore e io mi sono sempre chiesto ma esiste un modo per poterle guadagnare in maniera completamente gratuita? E la risposta è sì e l'ho scoperta in questi giorni di conseguenza eccomi qua a spiegarvi effettivamente come fare Prima di partire con il video però vi invito a lasciare un mi piace se questo video vi dovesse piacere per l'appunto vi invito a commentare qua sotto dicendomi se voi conoscete altri metodi per guadagnare criptovalute in maniera completamente gratuita e ovviamente se ancora non l'aveste fatto vi invito a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio io sono Riccardo, parlo di crescita finanziaria e personale a livello di 360 gradi infatti ogni tanto parliamo di crescita professionale ogni tanto parliamo di sport ogni tanto pubblichiamo opere d'arte così a caso link qua in alto se voleste prendermi in giro anche voi ma oltre a questo pubblico veramente un sacco di contenuti che possono essere interessanti sul mondo delle cripto o comunque degli investimenti in generale come ultimissima cosa vi ricordo anche che ho un gruppo telegram sul quale anche voi potete dialogare un gruppo telegram molto attivo di conseguenza vi invito ad entrarci il link lo trovate qua sotto in descrizione e il gruppo si chiama Idee per crescere per l'appunto perché tutti voi potete dare delle idee per ispirare gli altri o riceverle a vostra volta anche delle idee sui libri, su consigli, eccetera, eccetera ok, partiamo subito quello di cui vi andrò a parlare oggi è una piattaforma si chiama Coinbase Earn ovvero impara con Coinbase una cosa del genere tradotto in italiano e di cosa si tratta? beh, semplicemente è una piattaforma che si appoggia a Coinbase un'app, un programma, un sito per acquistare e vendere criptovalute che utilizzo da ormai due anni Coinbase Earn funziona molto semplicemente praticamente voi premete su questa pagina e vi si aprirà una schermata con tantissime criptovalute criptovalute che in realtà sono dei mini corsi infatti ci sono dei mini corsi da seguire di uno o due minuti in cui voi alla fine del corso visto che sono due o tre minuti però appunto non sono tantissimi dovrete sostenere un quiz e in base alla risposta corretta o non corretta che date avrete a disposizione degli euro convertiti in quella criptovaluta io stanotte mentre dormivo mi sono svegliato non svegliato cosa fare sono andato a guardarmi la sezione di Coinbase Earn e ho guadagnato circa 30 euro in una nottata suddivise in qualche criptovaluta adesso vi lascio l'escrizione qua perché non le conosco e non mi ricordo i nomi è veramente molto facile ricevere anche perché se date la risposta sbagliata non è che voi non avete più diritto a quella criptovaluta ma semplicemente ridarete la risposta infatti quando premete sulla risposta sbagliata non vi rimanda all'inizio vi dice basta non potete più farlo semplicemente vi dice la risposta è errata ritenta e voi premete quella sotto la risposta è errata ritenta premete quella sotto ancora così via dicendo è veramente facile guadagnare in questo modo queste criptovalute dopodiché una volta che avrete guadagnato queste criptovalute potrete farci esattamente quello che volete io adesso le ho volute conservare ma se voleste potreste rivenderle scambiarle per altre cripto potete far quello che volete con queste cripto addirittura potete metterle in un wallet privato in un portafoglio privato e metterle su un altro sito di investimenti o dove vi pare oltre a ciò vi dico che è anche possibile guadagnare bitcoin in maniera completamente gratuita tramite questo sito ok forse dire in maniera completamente gratuita è errato in quanto per guadagnare bitcoin effettivamente dovrete iscrivervi al sito tramite il mio referral link o comunque un referral link in generale e ricaricare di almeno 82,50 euro questi 82,50 euro potrete usarli per comprare le criptovalute che volete ma in cambio immediatamente dopo riceverete circa 8,50 euro in bitcoin questi 8,50 euro in bitcoin saranno gratuiti in più avrete gli altri 82 euro che potrete investire dove vi pare ok questo qua era coinbase e coinbase earn piattaforme veramente semplicissime da utilizzare ci ho voluto fare un video perché io non conoscevo non conoscevo la sua esistenza e di conseguenza ho detto io che utilizzo coinbase da quasi un anno e mezzo non conoscevo la sua esistenza chissà se altre persone effettivamente non la conoscono di conseguenza ho voluto fare questo video per l'appunto per far conoscere questa piattaforma all'interno di coinbase anche a voi e in più spammare un attimino il mio referral link perché comunque avere 8,50 euro in bitcoin anche voi ovviamente così a gratis insomma è una cosa sempre abbastanza utile di conseguenza ho voluto proporvela detto questo se conoscete altri metodi per guadagnare criptovalute in maniera completamente gratuita vi invito a scriverlo qua sotto nei commenti e vi invito ovviamente a iscrivervi al canale mettere mi piace e commentare per l'appunto dicendomi qua sotto nei commenti se voi conoscete altri metodi e ovviamente vi invito anche ad entrare nel gruppo telegram che trovate in descrizione detto questo ragazzi noi ci vediamo al prossimo video il prossimo video sarà su un'altra cosa molto particolare sempre incentrata sulle criptovalute ma molto 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 più bella detto questo noi ci vediamo ciao ragazzi ciao